Ci sono passi che danno speranza per un popolo che ha tanto sofferto. I giorni trascorsi in Colombia sono stati densi di emozioni e Papa Francesco ha voluto condividere le impressioni del suo ultimo viaggio apostolico con i giornalisti presenti sul volo Cartagena-Roma. Anzitutto il Pontefice ha espresso gratitudine per un popolo che ha nobiltà e gioia nel cuore e che ora si sta muovendo con convinzione verso un futuro di speranza senza dimenticare le ferite del passato. Le otto domande formulate da altrettanti giornalisti hanno permesso a Papa Bergoglio di ribadire la responsabilità morale che ogni individua nei confronti del creato soprattutto alla luce degli evidenti cambiamenti climatici. Hanno trovato spazio poi il tema della corruzione, dei giovani che hanno bisogno di ritrovare le radici della propria esistenza, dei migranti fino alla crisi in Venezuela per la quale è stata auspicata una soluzione rapida anche con l'intervento delle Nazioni Unite. L'aspetto più drammatico ha detto è quello umanitario che va risolto in ogni modo.